L'utilizzo degli ultrasuoni in anestesia ne ha migliorato molto l'efficacia e, se vogliamo, anche per certi versi la sicurezza. Da molti anni vengono utilizzati gli ultrasuoni in queste tecniche, ma ultimamente era necessario avere qualcosa di nuovo che potesse aiutare il lavoro dei non anestesisti quotidianamente. Bill Brown ha sviluppato un sistema molto utile, molto semplice per l'utilizzo di tutti i giorni, pensato proprio per l'anestesia locoregionale. Abbiamo riscontrato nel nostro piccolo centro, che comunque fa dei numeri abbastanza importanti di ortopedia, traumatologia, quindi un grosso volume di anestesia locoregionale, che questo tipo di apparecchio aiuta molto nella formazione dei nuovi anestesisti e aiuta anche i vecchi anestesisti, diciamo così, a migliorarsi nelle tecniche. Soprattutto quando dobbiamo utilizzare degli approcci diversi, degli approcci più profondi, a blocchi più profondi, o in pazienti con problemi particolari, vedi il paziente obeso, vedi il grande anziano, che possono avere dei problemi di utilizzazione delle strutture, ma soprattutto del lago. E quindi in tutto questo l'efficacia dei blocchi e dell'anestesia locoregionale in sé è migliorata notevolmente.